Arrivano nuovi parcheggi per i ciclisti napoletani, 23 punti distribuiti in città, gestiti dall'Associazione Autorimesse e da Confcommercio, dove sarà possibile parcheggiare la bici a un euro per le prime due ore. A questi si aggiungono i parcheggi di interscambio di ANM messi a disposizione gratuitamente. Negli ultimi dati che abbiamo si parla del 7% della popolazione che usa la bici nella nostra città in una situazione ancora che ha molto da migliorare. Siamo fortemente convinti che questa è una misura che serva a sviluppare una mobilità sostenibile. Noi per il momento stiamo lavorando da oggi per offrire questa possibilità di parcheggiare in quattro parcheggi di interscambio gestiti da ANM, sicuramente due in struttura di Brinne e Colle Minei, per gli altri stiamo effettuando dei sopralluoghi per vedere qual è la fattibilità e le posizioni più opportune. I parcheggi saranno facilmente localizzabili con CycleStop, un'applicazione gratuita per i telefoni cellulari che segnalerà i punti di sosta più vicini, ma anche le attività e i servizi per i ciclisti, le fontanelle pubbliche e darà la possibilità di lanciare un SOS in caso di guasto alla bici. Ci aiuta a sapere quali sono le postazioni in cui la possiamo lasciare, una d'officina per ripararla o punti di ristoro dove possiamo fermarci, magari sostare per un po'. Ci aiuta a mandare una richiesta di SOS nel caso la nostra bicicletta sia rotta, danneggiata, mandarla sia a altre persone che sono in giro, altri ciclisti o addirittura alle officine equipaggiate ovviamente con il nostro sistema in modo da poter agire sul campo direttamente con attrezzi per riportare alla vita la nostra bicicletta. L'iniziativa Bike Parking è promossa dal Comune di Napoli fra le azioni a sostegno di una mobilità sostenibile. Immaginiamo una situazione con maggiori piste ciclabili, zone 30, zone pedonali, quanto potrebbe crescere questo servizio con l'intermodalità ferro, bicicletta. Insomma ci sono tantissime opportunità di crescita, è il mezzo di trasporto più attuale e innovativo perché non inquina, ti dà benessere fisico e dà qualità della vita e bellezza alle città. Va avanti tutti gli sforzi, iniziative dell'amministrazione sempre più per favorire la mobilità ciclabile e quindi vorrei dire più che cycle stop, cycle go, noi andiamo avanti nella politica di sostegno alla mobilità attiva e alle biciclette.